Vi aspetto stasera alle 18 per far esplodere definitivamente YouTube Sì ragazzi avete capito bene, noi facciamo detonare le tendenze di YouTube perché saremo primi Ve lo posso garantire su quello che volete Ore 18, non mancate perché scriveremo insieme la storia di questa serie Sistemare tutto o tornare indietro nel tempo, questo è il dilemma che mi affligge Bene ragazzi, qui Stefanie e bentornati nel 190esimo episodio della serie principale di Minecraft Se puttacaso qualcuno di voi si fosse aspettato dei progressi per questo appuntamento si sbagliava di grosso Anche perché i guai li abbiamo combinati insieme, dobbiamo risolverli insieme Per la precisione non so quanto ci metteremo a sistemare il tutto ma abbiamo due alternative La prima è la versione in cui in qualche modo riesco a tornare indietro nel tempo a risistemare le cose La seconda è quella che ha scritto un ragazzo di voi nei commenti Ovvero di guarire il villaggero che abbiamo trovato nel villaggio invaso dagli zombie e farlo tornare un cartografo Sempre se la mia teoria è giusta e quello è un cartografo perché potrebbe essere anche un librarian E la cosa divertente è che io sono una persona furba, no? Mi allontano sempre dalle cose che trovo e quindi ho perso pure quel villaggio Facciamo che indosso un attimo l'elitra che un pochino di durabilità l'ha recuperata e proviamo a trovare il villaggio di nuovo Beh in realtà non dovevamo andare neanche troppo lontano, il villaggio è qua giù e teoricamente dovrei ritrovare il mio caro amico qua dentro Salve In questo episodio io direi di provare a risistemare le cose nella versione umana e normale Per quanto questo villaggero possa essere tutto fuorché umano, va bene, siamo d'accordo Devo creare una piccola base all'interno di questo villaggio Mi servirà della legna, dovremo prendere della sabbia, trasformarla in vetro Fare una lambicco, scoprire come trasformare una pozione normale a quella della debolezza perché io non so farlo Fare una mela d'oro normale, non di nocce, una di quelle lì celesti che si dovrebbe fare teoricamente con 8 pezzettini d'oro Che ce l'ho, vero? Sì ce l'ho fortunatamente, ne avete visti 7 ma ci metto un attimo a farli Sta diventando nuovamente notte, tanto lui in teoria non dovrebbe sparire Per adesso fermiamoci qua dentro, inizio anche facendo una bella trapdoor che mi tiene lontani i mostri Mettila qua nel mezzo, questa non possono distruggerla, addirittura 2 è ancora meglio Fai una bella chest, piazzala qua e svuotiamoci un secondo l'inventario Le cose che ho messo all'interno della chest non posso permettermi di perderle per nessun motivo al mondo Spero di ricordare male ma per fare la lambicco servano le cosine dei blades E teoricamente non ne abbiamo a portata di mano, eh no, neanche una Calmo step, un respiro profondo Nella ender chest magari siamo super fortunati E c'è, c'è la blades powder Ma la blades powder non serve a niente, non si può ritornare indietro È notte quindi tanto vale andare a farmare un pochino di esperienza Poi iniziamo a fare un collegamento sotterraneo Perché l'unica cosa che mi viene in mente a questo punto è creare un ulteriore portale del nether Però questa opzione mi spaventa perché se rovino i collegamenti che ho fatto mi ammazzo Stai lì dentro, bono, non farti toccare da nessuno Salve amico mio Inizia la guerra notturna con i mob Sia per far riprendere vita all'elitra Sia per cercare un occhio fermentato Perché ho cercato su internet e mi serve per fare la pozione Come farò a farlo? Io non lo so questo, non vi ho detto che sarei stato capace Ho detto che ci avrei provato, ovviamente I piccignacoli per me sono il nuovo incubo della serie Chiaros, coppia, creeper Ma chi è che mi sta picchiando? Ma quanto è lontano? Non può prendermi da così lontano Via di tre cogliones Ho trovato tre occhi normali e zero occhi fermentati Chissà quanto è basso lo spawn drop di quei cosi L'importante è ammazzare i più ragni possibili E il problema dovrebbe essere abbastanza risolto La mia spada tra l'altro ha looting 3 Quindi dovrebbe darmi tutto il possibile Caccia fuori quello che cerco Dai, non fare il tirchio Bruttami fuori st'occhio fermentato Io vi ammazzo tutti quanti Non so da dove caspita arriviate Ma vi distruggo Vi provino la vita Non uno, non due, non tre Ma ben quattro creeper nei paraggi Prima di fare ulteriori fail Ho detto vabbè Tanto vale cercare su internet Come si fa all'occhio fermentato Io speravo che lo droppassero i mob In realtà no Devi fartelo da solo Con un pochino di zucchero Un fungo E un occhio di ragno Ma cosa c'ho scritto in testa, eh? La strega di Hansel e Gretel L'occhio ce l'ho per lo zucchero Mi serve la canna da zucchero Intanto c'ho un botto di scivo Che abbiamo appena trovato Dove caspita trovo i funghi Sarebbe potuto andare tutto alla grande Io invece ho rovinato tutto Anche se è notte Io direi di provare un attimo A tornare alla zona dei villageri E del portale Questo perché creare un altro portale Non mi dà per niente sicurezza Voglio essere pienamente sincero con voi Abbiamo fatto un guaio nella serie Ma come vedete è rimediabile Cioè alla fine è una mappa Una schifosissima mappa È la mappa della leggenda Lo so Della magione della leggenda Che ti dà il talismano Dell'immortalità Però è un guaio rimediabile Posso garantirvelo Se poi roviniamo il collegamento Dei portali Rimiginano ancora di più le scatole Qui intanto abbiamo un raduno Di enderman nella foresta Ho deciso giustamente Di picchiarli No? Perché tanto fanno poco male Gli enderman Vero? Mannaggia mia Ma come mi viene in mente Questa cosa Stupido step Stupido Sia mai che magari Quella cosa laggiù in fondo Mi droppa direttamente Quello di cui ho bisogno Vero? Magari impazzisce Tiè E mi regala una pozione Della weakness Che non devo stare a fare C'è una pozione Attenzione Una pozione dell'instant health Non mi serve a nulla È tornato giorno L'elitra sembra quasi Interamente riparata Che ne dite Torniamo indietro Vediamo di entrare nel portale Le coordinate di qua giù Le ho già prese Non preoccupatevi Ucci ucci Sento odore di canna da zuccheruccio Questa la prendo io E adesso mi manca Veramente solo un fungo Sogno son desto Vedo dei funghi in lontananza Vai step Che ce la facciamo Questi sono i funghi Quelli rossi In questo bioma Nascono solo quelli rossi O ci nascono pure quelli normali Incredibile Basta che me ne droppi uno Io sono l'uomo più felice del mondo Oh Stai scherzando? Oh grazie E il primo obiettivo È completato Abbiamo l'occhio fermentato Ragazzi Roba di altro livello Tiè A noi serve una blazerod Che vi piaccia o no Ci serve a tutti i costi Una blazerod E io non so dove andare Per prenderla Potremmo anche azzardare A fare il portale del nether Però siamo veramente distanti Abbastanza dall'altro Forse sì Vogliamo veramente affidarci Ad un forse Per la nostra serie principale Di minecraft Direi che la risposta Sembrerebbe di sì Quindi sapete cosa facciamo? Facciamo schifo Perché non ho portato Il ferro con me Non posso buttare L'acqua là sopra Col cavolo L'acqua ci arriverà E comela Spacca lì E trasforma E ne recuperiamo un altro Nel frattempo Se Stepney non ha un vasetto Per portare l'acqua L'acqua arriverà Nel punto giusto Per conto suo Tutorial per come farsi Un portale di ossidiana Sprecando meno materiali possibili Con questo anche basta Ne ho presi fin troppi Non ci resta che raccogliere Giusto un pochino di sabbia Dovrebbe essere qua dietro Il villaggio Io ho una buona memoria Vero? Oh sì Prima di fare cose inutilmente C'è ancora il villaggero Giusto? Grazie Il pozzo verrà immediatamente Trasformato In un portale Del nether E ho messo male i blocchi Che bravo Step Che sei Ci lasci sempre di stucco Con i tuoi errori Uno Due Tre Questi qua sotto Vanno tolti Entrambi Altri due blocchi di ossidiana Uno Due E tre Adesso ce l'abbiamo L'accendino Vero? Ero sicuro di averlo All'interno di qualche utility box E invece mi sbagliavo Che strana questa cosa Però l'accendino Lo portavo sempre con me Pazienza Tanto dovremmo cucinare E quindi ci servirà Anche della cobblestone Cobblestone che prenderemo Da sottoterra Tanto dovremmo prendere il ferro Il piccone ci ha appena abbandonati Mi rimane solo quello con silk touch Che non vorrei sprecare in realtà Che situazione buffa ragazzi Io ho spaccato la stone E giustamente Mi dà la stone Perché ho silk touch Come ho appena detto E ribadito Questo vuol dire che devo farmi Un piccone di legno Vedete quanto Un errore così banale Prendere la mappa sbagliata Oppure lasciare la stanzetta Al villaggiare aperta Posso compromettere All'interno di una serie E adesso dobbiamo rimediare Ai nostri guai Prima che il piccone Con silk touch Ci abbandoni Io direi di recuperare Questa ender chest Che è fondamentale Per noi E si può prendere solamente così Mettila al suo posto Al sicuro Due fornace per non farsi mancare niente Qua l'iron E dall'altra parte La sabbia Ma l'accendino ce l'avevamo Ma allora sono cieco Come una talpa Tiè Accendi Sperando di non aver creato Un problema con questa mossa Questo qua Non lo posso abbandonare Devo sempre portarlo con me L'occhio fermentato Lo teniamo? Non lo teniamo? Non lo so So solamente che intanto Noi abbiamo la nostra boccettina Per l'acqua E ne abbiamo tre Ma sotto c'era l'acqua infinita Vero? Oh yes baby In tutto questo mi manca un lingottino d'oro ancora Non so se è vero ricordate Ma ce ne servono otto Ah già Ci serve anche una mela Quante cose che mi dimentico eh L'unico modo per trovare la mela E sperare che uno di questi alberi la droppi Quindi buttiamone giù il più possibile Per sfruttare al massimo il loro looting Direi di andare giù in miniera E niente Scavare 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 Trovare l'oro E aspettare che qui cadano le foglie Io avevo anche dei diamanti da qualche parte no? Perché non li utilizziamo per farci un nuovo piccone normale? Ne abbiamo dieci Qui c'è il piccone ma quello con fortuna Quindi direi di tenercelo con noi Ma di non rovinarlo Vai così Piccone di diamante sostitutivo Fatto A questo punto mettiamo quello con sick touch al sicuro Sta diventando nuovamente notte Vediamo se qualcosa è già accaduto Non sono sicuro che gli alberi di Birchwood Possano droppare delle mele È una speranza Ma visto che non sono alberi di mele Ci sta che li droppino in generale Approfittiamo della notte per trovare questo dannato pezzettino d'oro Mi sembra di essere tornato ai vecchi tempi no? Agli inizi della serie Quando ti mancano i materiali Devi scavare un sacco per trovarli Come se avessi scavato poco all'interno di questa serie C'è un intercapedine di tunnel sotto la mia base Che boh non so La metropolitana del Giappone può accompagnare solo Comunque una cosa che non avete ancora calcolato Ma che io ho già messo in programma È che quel cazzo di villaggero Potrebbe essere un librarian E nella migliore delle ipotesi Che è un cartografo Dobbiamo anche completare le sue successive mansioni Altrimenti col cavolo che arriviamo alla mappa Oh guarda Ho trovato una grotta Non mi capita mai praticamente L'ultima volta che siamo scesi in una grotta Però ho perso il mio cartografo Quindi che dire Magari torno su e quello sopra è stato ucciso da Dei villaggeri buoni Tanto ho deciso di farmi prendere fuoco alle chiappe Perché sono intelligente Proviamo a salire Sto cercando un pezzettino d'oro Uno Non vi ho detto datemene mille Ne ho chiesto uno Quante volte capita di trovarlo Quando non lo stai cercando Migliaia Centinaia Decine di milioni di migliaia Abbiamo trovato anche un piccolo canyon Di solito qua Con le sporgenze Si trova in un batter d'occhio Intanto mi arrivano degli zombie a domicilio Con la corrente dell'acqua D'un tratto l'oro non esiste più Probabilmente adesso troviamo un giacimento di diamanti Guarda qua Guarda che roba Guarda che roba Eccoci Oh mio dio Cos'è successo Perché sono caduto Ma dove diavolo siamo finiti Ho trovato un dungeon Io volevo solamente una mappa Perché mi sto ritrovando a fare questo E per fortuna che abbiamo gli stivaletti feather falling Altrimenti quella caduta sarebbe stata letale C'è perlomeno dell'oro qua per me Devo guardarmelo tutto il dungeon Oh grazie C'è un solo problema Che affligge la mia zucchettina malata di Stepney Praticamente Io non so se il Birchwood mi darà la mela Che significa che se magari girando qua dentro nel dungeon Trovo una chest Nella chest potrebbe esserci la mela Vogliamo credere in questo sogno Chiamato per favore Fai andare le cose bene per una volta Lo so che nessuno darebbe un nome del genere a un sogno Però avete capito qual è il principio Ma ci sono delle rutaie fluttuanti Ho visto delle cose negli ultimi episodi Che voi umani neanche potrete immaginare Voi umani Citta Ha parlato il nameciano Stepney Direttamente da Dragon Ball Ora mi trasformo la pelle verde Non sembrerebbe esserci la mia famigerata chest Quindi tanto vale tornare indietro E cercare degli alberi da uccidere A meno che non sia di qua Pensavo che il dungeon fosse finito E invece continua E chissà per quanto Quasi di Bondabagpepper Che però È la chest C'è una chest Setti tutti Torce Le torce non mi servono Ma le prendo volentieri Perché le metto da parte Avete visto però il dungeon Non è finito Anzi Hola mon amicos Esplodis Ma immaginatevi Io ora sto fantasticando Però corro a giro per questi tunnel Ad un certo punto Trovo un'altra fortezza del land So che è una cosa improbabile Ma ormai le abbiamo viste praticamente tutte Stanno succedendo così tante cose strane Che non mi meraviglierei più Comunque abbiamo trovato un'altra chest Ma non c'è nulla Del carbone Delle torce Un panino che mangiamo subito E un libro con acqua affiniti Almeno avessi trovato un altro mending Sarebbe stata una bella missione Vista la sua rarità Ne abbiamo già trovato uno Dovrei riputarmi molto fortunato E così è Però insomma Visto che vanno sempre male Spesso le cose Una sorpresina in più positiva Fa sempre comodo In tutto questo Sto aspettando il momento giusto Per dirvi che mi sono perso Perché non so trovare le parole Per farlo Più che altro Perché si aggiungerebbe Nell'ultimo episodio Abbiamo preso la mappa Più importante del gioco Abbiamo perso il suo villaggero Abbiamo fatto degli acquisti sbagliati Ho quasi l'ottroelitra Mi sono perso Questo è il metodo migliore per dirlo Ve lo dici velocemente Così rimane giusto Quello che hai fatto prima Il fatto che tu abbia perso La strada Non è niente di che Figuriamoci se il problema Fosse aver perso la strada Eh sarebbe tutto Così tanto semplice Per modo di dire Perché adesso non so più Dove tornare indietro Quindi boh È di là Oh mio dio Sono caduto di nuovo La so scemo io Eh ragazzi Che ci devo fare Per quanto io sia un pazzo maniaco Dovete anche sapere Che sono particolarmente Premuroso In tante situazioni Non lo sono stato In quella del villager In particolare Ma non fatemela pesare troppo Ho preso le coordinate Del sopra Sappiamo esattamente Dove è situato Il villaggio Con il cartografo zombie Veramente l'ho chiamato Cartografo zombie Questo significa Che ci credo fermamente Nella nostra missione Perché vorrei ricordarvi Che io Nella mia lunga Carriera di minecraft Considerando che ci gioco Praticamente da quando è uscito Dalla beta E dall'alpha Non ho mai fatto tornare Un villaggero zombie Un villaggero normale Perché non ci ho mai manco pensato No dai Questa è una bugia A volte ci ho pensato Ho detto potremmo farlo Proviamo a catturarlo Però non mi era mai venuta l'occasione Né tantomeno la voglia di farlo Perché non c'era un vero motivo Vero e proprio Sì era un obiettivo carino Da portare a termine Far tornare in vita Un villaggero Oh mio dio Chi sono? Frankenstein Ecco se oggi Frankenstein Non porta a termine La sua missione Mi sa che abbiamo Un grosso problema E considerando Quanto ci metteremo Andare nel nether Trovarare una fortezza Ammazzare un blaze Tornare indietro Fare la pozione E prendere una mela Probabilmente anche oggi Avrete un doppio appuntamento Immagino che questa cosa Non vi dispiace affatto E quindi va bene così Sono tutti felici E vai Sopra è notte No Sopra è acqua È diverso Donde siamo sfiniti In mezzo al nulla Tranquilli È tutto quanto calcolato Cari amici Questo centonovantesimo episodio Della serie principale Termina qua Spolliciate Commentate Condividete Se ancora avete fatto Scrivete al canale Qua è sempre tutto Ora 18 Non mancate Perché scriveremo insieme La storia di questa serie